E da sostegno di questa manifestazione Picentini Experience non poteva mancare il supporto, il sostegno del GAL Colline Salernitane. Qui con noi c'è Eligio Troisi che è il coordinatore che in questa serata ha presentato alcuni progetti da avviare prossimamente. Sì, grazie, buonasera. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori, il Presidente, la Dottoressa Sorgente che sta curando proprio questi spazi di interazione con altre realtà del territorio. Dicevi bene, il GAL non poteva mancare, del resto lo stiamo facendo con tutte le associazioni del territorio, le associazioni ovviamente che non hanno fini di lucro, che sono riconosciute dal GAL in quanto iscritte nella nostra albo delle associazioni riconosciuti e che fanno iniziative significative sul territorio che vedono un coinvolgimento e una partecipazione anche oltre la realtà giffonese e del territorio dei Picentini. E quindi il GAL ha definito un programma di collaborazione con questi spazi, tra virgolette, autogestiti per fare in modo che così si possa raggiungere i potenziali interessati e divulgare le attività che stiamo portando avanti. E su questo, insomma, mi prendo ancora qualche minuto, abbiamo chiuso i primi quattro bagni, ormai a giugno scorso, sono già quasi pronte, credo a settembre, massimo per la metà di settembre, avremo le graduatorie provvisorie che significa la verifica di controllo della Regione e l'emissione dei decreti di finanziamento, delle prime 22 domande di sostegno, quindi i progetti che ci sono pervenuti candidati e così impegniamo i primi 2 milioni di euro e nel frattempo, dal luglio scorso, abbiamo i bandi già pubblicati, stasera parleremo di questi che scadono appunto il 15 ottobre prossimo e l'incontro di stasera con altri che faremo va proprio nella direzione di divulgare, far conoscere, sostenere, accompagnare la partecipazione di giovani e di imprese del territorio ai bandi e alle risorse del GAL. Un tuo giudizio, Eligio, su questa manifestazione all'interno di questo borgo medievale? Beh, sicuramente il contesto è straordinario, credo che poche realtà, diciamo, in Campania, la provincia di Salerno, ma in generale direi in Campania, possono vantare una location come il borgo di Terravecchia che peraltro è ormai quasi completamente fruibile con molti spazi pubblici, quindi di proprietà comunale che sono anche, devo dire, abbastanza valorizzate, anche se ovviamente ci sarebbe da fare ancora di più. Su questo si è creato questo connubio pubblico, il comune e privato, l'associazione Picentini Experience e che ormai con questa terza edizione, insomma, di Picentini Food Experience in questo contesto sta, devo dire, raggiungendo una partecipazione significativa per valorizzare e far conoscere il territorio sia in chiave agroalimentare, ma ovviamente per quello che è il contesto naturale, ambientale, storico e le bellezze che complessivamente i Picentini sono in grado di offrire. Prossime misure? Le misure, i bandi pubblicati appunto riguardano la 751 che implementa 600 mila euro, ma che passeranno a 900 mila con una comunicazione che dirameremo inizio settimana prossima, quindi tra il 2 e il 3 e il 4 settembre, che riguarda aiuti agli enti pubblici, quindi è riservata ai nove comuni del territorio per favorire iniziative anche attraverso investimenti materiali, piccole, diciamo, infrastrutture di servizio alla promozione turistica del territorio. Ovviamente il bando si trova sul sito del GAL nella sezione Bandi PSR, sul sito sempre, nelle news si trovano dei sintetici per avere una lettura veloce, rapida di qualche pagina, diciamo, di quelli che sono gli elementi del bando, i requisiti che bisogna avere per partecipare e poi abbiamo le altre misure che riguardano la 621, va nella direzione dei giovani che vogliono, al di sotto dei 40 anni, che vogliono per la prima volta avviare un'attività nel settore extra agricolo, una piccola bottega artigianale, un piccolo, insomma, attività di servizi, anche di promozione del territorio turistico, di guida e turismo, di attività di incoming, con investimenti anche qui significativi, siamo in grado di finanziare almeno 11-12 iniziative. Il premio è di 40 mila euro a fondo perduto, quindi stiamo parlando di 440 mila euro. Le altre due misure riguardano invece, e sono la 311 e la 321, riguardano invece le aziende agricole, la 311 sostiene al 100% le spesse degli imprenditori agricoli che vogliono aderire ai sistemi di certificazione di qualità, la 321 sostiene iniziative dei consorzi di tutela, le DOP, delle IGP, quindi tutto il sistema delle produzioni a marchio collettivo del territorio per far conoscere e affermare la qualità di questi prodotti certificati sui mercati nazionali e nel contesto anche regionale per rafforzare con la qualità e la significatività dei nostri prodotti anche l'attrazione turistica.